Eccoci qua Buonasera a tutti Sono Franca Sono molto naturale Sì, sempre naturale, com'è? Ecco Un pezzo di merda si ammazza Slot di sabbataggio 1 Questo è... Chi gioco è questo? Questo gioco si chiama Unrived Unrived Che vuol dire? Due, perché si gioca in due E questo qua lo faremo insieme Ecco qua sappiamo già il titolo Ma è già partito Cazzo Perché l'ha fatto partire? Io? Bello, mi piace Sì, sì È triste secondo me questa storia Mai cosa di breve Poverino Efradice Però resiste No, si è staccato Ma come fanno vederlo Poverino Lo beccano Lo beccano Poi c'è mio caro amico blu Che sarò io Non spoilerare Come Magman e Capper È vero, io stavolta sono rosso però Eri rosso anche Eri rosso anche in cosa Ah Eri Capper Io preferivo Magman Ops Ecco io sono Magman Oh come sei carino Un uomo che bellino Io qua vedo già i bestemioni È veritato Ma io vedo già Il sangue Guarda io ho la luce rossa accesa Perché sono in rosso E io non ce l'ho la luce Eh perché è il joystick tarocco Della Chioccio la play Non facciamo pubblicità Guarda come siamo Vicini Ok Passa da un personaggio all'altro Eh no Ah addirittura possiamo cambiareci con un triangolo Prova No siamo Ah sia Siamo uniti Puoi muovere anche tu? Avvicinati a te la persona Per farti trasportare Puoi muovere anche tu? Eh Vabbè Prova a far tu su di me No Ah ok Che tottino carino Andiamo E vorrei un attimo i tasti X salti Quadrato non fai nulla Triangolo fai la roba lì Ah questo Questo si Cazzo volante Questa roba Guarda così Così eh Cosa? Cosa sto facendo così? Sto tenendo la corda Sì Con L2 Con L1 Con L1 nulla R1 nulla E poi che altri tasti ci sono? Non lo so Questo no E questo Aspetto Puoi cambiare l'aspetto Ha solo uno? Ah no per adesso soltanto No L'abbiamo sbloccato gli aspetti I tetini Colore si però Guarda che cambia il colore Il colore io ne voglio uno ben visibile Anch'io? Giallo No fermati Non è molto Cambia anche il colore del tuo giro Vieni le file No ce l'avrò anch'io Sì Mi hai già sbloccato un trofeo Siamo dei pro Poi aspetta Anche le opzioni Dobbiamo guardare un attimo No no Va bene Guarda Guarda Posso posso Va bene tutto Guarda le impostazioni Di gioco? Eh no Afferra automaticamente No no lascia tutto normale Bo andiamo Adesso ci sono il giallo e il tuo rosso Come mai No Come non sei tu che sia messo il rosso Ah si è vero Eh però io sono Ah Secondo te qua come si fa Fermi Ah Qualcosa insieme Suppongo Soltiamo insieme Sono dei down Stai ferma tu Ops Stai ferma Stai ferma Ah scusami non l'ho sentita Ah Ti tengo Tieni Tieni Con che cosa che ti tiene? Ah così Però fammi trasportare Ah ok Come hai fatto? No è il tutorial È il tutorial Alcuni oggetti possono essere spinti X per saltare Vedi il tutorial Se farei alcune sfide devi puntare sulla coppia Cioè? Cioè si in che modo? Ferma Aspetta Cosa ti diceva? Vedo già i bestemioni lo sai? Ah bisogna Spingiamolo su Hai ragione Tutto qua Vai vai Ah no aspetta ho capito Uno lo ferma Uno lo tiene fermo L'altro va su Madonna Vedi Ok Come faccia? Ah così Qualcuno facevi? Triangolo per farti trasportare Ah no Sì Ok dai Bello mi piace Eh io ti spingo su così Ma chi è che non ti ha rompere un po' di coi? Chi è? Non lo so Ok Eh Sì lo sapevamo già Ok Bello mi piace L'hai già detto Eh Continuiamo Ma va che non frega niente a nessuno se ti piace sto gioco Sti giochi qua sono belli punto Cioè non è che Dove no? Bello mi piace Non ti ne frega niente a nessuno Per scorrere i procedimenti prima a testa Bello mi piace Bello mi piace molto Come è che ti faccio prendere le cazzate Cosa vuol dire? Per saltare più in alto e più lontano Da qua presumo Oh oh Ci ho arrivato prima io Puoi cambiare la direzione a mezz'aria Sì Ti ami su Così Come un bambino piccolo Orca miseria Qua? No dobbiamo fare platform Platform Vieni Così Vedi Bene Ma porca vacca Cazzo tanto Difficile eh Non è difficile No Franca mi hai tirato giù Mi hai tirato giù Tanto posso venire sopra di te? Sì forse facciamo il meglio Ma aspettarmi un attimo magari Sì Mi è andata più meglio Tirami su per favore Ecco sempre così Mi tiri su Tutta la storia Tutta la storia è piccola Eh L'aveva controllata bene tutto qua Sì No No Opla Ah ma i lumini non li controlli tu? Non ne mica rai ma I segreti o quando li ho ancora visti? No Bisogna aspettare il tempo giusto Vedi che vai Vieni Ah no Ecco il gatto Vai Tirami un po' su Buon basta 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 Vieni Puoi saltare sulle pareti Come in Ryman Bello questo gioco Mi piace molto Ho fatto una scoperta Scoperta sensazionale In prime Avevo il martellazzo La cliente franca ti odia Perché continua a dire la stessa cosa Ah Hai un sacco di haters Però nessuno mi ha scoperto nulla ancora Boh Se salti su una parete Puoi lasciarti scivolare verso il basso Per poi saltare lì in qualsiasi momento E ci vedo molto a fare queste cose Vieni un attimo qua Vedi qua sotto però Vieni giù un attimo Ok Ti cari tu Vedi che c'è qualcosa qua Sei sicuro che lì si Non si va avanti Ma è un segreto Mi fido di te Ah no torno in su Semplicemente Ostia Ah no cazzo Si va avanti pure È un segreto Sì E c'è qualcosa di bianco Di bianco No niente Vediamo Niente Ok semplicemente bisogna fare No vieni qua Porca vacca Vieni No vieni Ah siamo qua Ok 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 Molto bene Molto bene Mi è passata una tenzara vicina Ostia Per usare il lazzo L'azzo L'azzo Il lazzo Vuoi usare il lazzo mentre sei Ok 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 Guido Wow Sono molto agile Sono un espertone Tirami su Sempre io Sempre io Sono bravissima Come vai Che fighissimo sto Fide Che hai già detto No No Aiutate che fighissimo Non bello Molto bello Vuoi comprare i barbatti Vai su E adesso Guarda come sono agile Tirami su Porca Eh no ho sbagliato io Eh ho sbagliato io Eh ho fatto una cazzata Eh Vieni vieni Bimbolino Non riesco a rapiccarmi Devi fare le due Ah è vero Non è le due Veramente Tutorial Cosa serve Bravo Tirami su Eh vieni su Vieni su Ah devo rampiccarmi io Aspetta Vieni Staccati Staccati Vai Ok aspetta Che nabbi Che siamo Lino Umber one Ce la fece Ole Vieni qua va Mensa Andiamo Allora là Eh ma qua no Così Tirammi su Tirammi su E se tu che puoi andare su Ah fai peso Questo è un copone Un copone Ostia Ostia Ti tieniti Ostia Da dove andar di là Se una sezione è particolarmente difficile puoi farti aiutare No 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 Adesso No 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 Possono essere attivati e disattivati Speriamo che siano disattivati eh Nabbi eh Almeno io so Eh Lo sapevo io Comunque suppongo che le vite non ci siano più che altro è soltanto dei puzzle da risolvere Giusto La franca porcanda È colpa tua eh Che mi stai trainando Ascolta Aiutiamoci a vicenda Vai fai alle due Vai lanciati Devi mollarmi Sei tu che mi devi mollare dopo eh Davvero? Sì Ok pronta Non vedi che non riesco a mollarmi Pronta Vai Ok Adesso vieni qua Vieni qua che ti prendo Ok No Aspetta che Ok Dai Aspetta che allungo un pochino Allungati Ok Adesso ti mollo al momento giusto eh Devi venire Fermati Aspetta che No non devi venire così sotto Perché stai facendo questa cosa? Perché volevo far cambio No devi star ferma Ok adesso lascio alle due E lo tieni tu premuto Tu devi schiacciare X Devi schiacciare R2 tra un po' Guarda eh Aspetta eh Adesso Boh Ha funzionato Ma tu potevi anche rimanere attaccato E non so perché si è staccato Comunque ok dai eh Molla Cazzo Beh vieni qua ancora Non ce la faccio Stai di attaccare A parte che forse possiamo allungare direttamente Ce la facciamo Molla Ah ma c'era un altro lì Non l'ho visto io Non l'avevo visto Fermati c'era un altro lì Molla Attaccami Sto attaccato Oh puttana Sono coordinati Vieni un po' più su Ok Vieni qua No 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 Idiota È colpa tua R1 cosa c'è scritto? Non lo so Forse riesco a farlo da sola Cazzo vuol dire Dai andiamo Lo sapevo io Adesso ci riproviamo Ok Provaci tu adesso Vai por di là Ma che vada Ti rimetto in sesto Come invece Con legato in questo modo Ce l'ho fatta Ho sbagliato Vabbè tanto sei tu Non fammi tirar giù Oh eh ce l'ho fatta io Alla fine Alla fine non bisogna Tanto fare Molto bravo In realtà è molto facile Però c'è Non c'è niente da prendere Vero? Solo platform No ma mi piace questa cosa Così non devi star lì Questo? Puoi usare l'altro Per tirare verso i tele oggetti Con i nodi Ah lo usi per saltare Ah quello lì ci dà gli aiuti Non mi piace Allora disattiviamolo? No ma che aiuti Ma non c'è l'altro Dice un aiuto prima E ci ha fatto vedere Come saltare adesso Ma è il tutorial questo ancora Non c'è la modalità aiuto Non è attiva eh Bene bene Molto bene C'è molto l'ambientazione Sì molto suggestiva Vedi che ci dà l'aiuto Ma non è vero Puoi superare alcune sfide Devi puntare Sulla cooperazione Sì devi passare Ecco stai lì Stai lì ferma eh Ok Adesso in realtà è di là Così salgo io Mi uccidevi così Per una Ecco Bello mi piace molto Lo dico solo perché ti dà fastidio Dà molto fastidio Puoi saltare attraverso gli oggetti sottili Ah beh sono soliti Ah quindi solo con quelli sottili Attenzione Sotto Sotto Per saltare al basso attraverso gli oggetti sottili Ah sì come tutti i platform del mondo Hai ragione Fate un attimo Ma nell'acqua Non c'è niente Effettivamente l'inizio là nell'acqua Ah queste sono Ti puoi rampicare Sì Eh ci sono un sacco di E lì in basso E no tanto non ci sono gli oggetti Però adesso Come in Brothers È vero? Sì in Brothers c'erano soltanto degli achievements Orca vaca Ok I achievements di oggetti da trovare Ma erano proprio cose molto secondari Comunque non c'è Attenzione che c'è qualcosa Non essendo c'è la vita Ci sta Non dobbiamo bestemmiare più di tanto Così non va bene Allora Ah sono io che non vado bene Eh sì Allora vai tu Pronto Ti lascio Eh non ce la faccio Devi mollarmi Devi mollare anche il tasso con qui Perché non riesco a mollare Oh ce l'ho fatta Boh ce l'ho fatta anche io da solo Molto bene Punto di attacco per fare un nodo con un quadrato È possibile tessere ponti tra punti di attacco E quindi no Oddio Ma puoi cadere? No Ah che figata Premi cerchi in un punto qualsiasi Per slegare l'ultimo nodo fatto dal personaggio Il nodo? L1 per ricevere suggerimenti Quindi mai No no Però qua Se devo fare ancora qualcosa con il nodo Però non vedo attacchi Ah no è una cosa che bisogna fare per forza Hai capito? Mmh Oh Bisogna farlo Ah per leggere come funziona Di qua? Ah no Puoi spingere l'oggetto sui ponti Sui ponti I ponti nostri Mi sapevo che vedi che c'è un nodo Ma è vero Ma è vero Vuoi che si faceva? Guarda l'altro Dovevano spingere l'oggetto sul ponte però mi sa Va bene Ah sì giusto fai così e poi lo spingere sul ponte vai Spingi Ok adesso mettilo sul ponte Ok perfetto Visto Poco realistico però Ma Senti ma Cioè Sto scherzando Ma ti rendi conto delle cazzate che dici? Come si faceva a slegare il nodo? Ehm Cerchio Cerchio sì Ah li slegara solo automaticamente Sì perché è una cosa molto realistica Due fili che vanno in giro Veramente Cioè Un videogioco è una cosa realistica Un videogioco Che bello i videogiochi A giocarli con te poi Ah guarda un piacere Bisogna fare dei nodi lì? Sì bisogna fare dei nodi Come hai fatto? Fai così e fai il nodo Hai ragione Molto bene Ah guarda è metà è mia e metà è tuo Figo Ah lì c'era un altro però Possiamo fare l'infinito? Ostia questa è una cosa molto brutta Tirami su là Tutto bene? Quello che finisce bene Tira via tutto Perché sei obbligato a tirar via le cose vero? Eh certo Se no rimane accato lì poi Bene Ormai però dobbiamo spegnere Perché? Ah Si esaurisce No moriamo Si può morire Non penso Si staccano per sempre Vieni giù No Non si può morire in questo gioco Non so E come si farà a salvare? Salverà automaticamente? Sì? Sicuro? Cioè non è che E qua? Ah non si può Non si può dopo Vai Franca Adesso Siamo molto bravi Siamo molto bravi Ah guarda Ah Non esce tutto così Si esce tutto così Non ho ancora capito bene come funziona Vedi qua potevo morire Non penso Ah no hai ragione Puoi venire su per favore Grazie Dondalti Molto bene Molto bene In questo momento non siamo molto bravi Qual era il tuo piano? E se volevamo via tu Non mi tenere Me lo spieghi qual era il tuo piano? Quindi bisogna per forza dondolarsi Si Ok che che fa Io Il dondolo? Dai Dai Dondolo Dondolo Bon così va bene Ok pronta Al prossimo mi mollo Vai Ma io sto fermo Finchè non ce la fai sto fermo Boh Adesso Tienlo che vado io Tienlo Ok Non ho capito cosa devo schiacciare per mollare però Nulla Basta che ti metti lì Stai fermo Vengo io adesso Un po' scivoloso però qua Ok Cazzo E cosa si fa lì? Ah forse Non dovevamo tenerci Difficile eh? Pronto? Si Ok adesso vado Chi è mia? Si Porca vacca Perché Allungo un po' il film Dobbiamo fare una cosa Però prima No adesso un attimo Perché rompe i coglioni Quel cane lì Non ce la faccio Franca No Troppo Aspetta che mi sposto un po' Boh Ma perché? Ho sbagliato Perché? Puoi mettere fuori il cane per favore? Si sta pisciando rosso secondo me Poi sta fuori proprio Dice? Che dolore è? Ho avuto un'ottima idea E ho avuto un'ottima idea insomma E' l'ora Adesso arrivo eh Eh no Ok Ok vai Ti tengo forte Cazzo però Ah ok così Stai lì eh Ma è il massimo la lunghezza Ti devi allungare tu eh Ok Boh Bravo Ottima idea E' l'unico modo No ti prego dimmi che non è vero Cosa? Dobbiamo ancora dondolarci Si Dai Arrivo fratellone No per favore Non trarmi così che schifo Ok Vai Troppo corto Ah dovevo lasciarti forse Ah si devi mollarmi poi Eh scusa Boh Molto bene Oddio Tieni eh Ah giusto Aspetta eh Intanto scende un pochino Si Mollami quando Adesso mollami Ok vieni qua Mollati Che sbanga Che sbanga Che sberla Pazzo Boh Spegniamo? Come spegniamo? E' un po' tardi Come un po' tardi? Non vuoi far l'ultimo a vedere eh? Non puoi notare? Porca vacca Puoi notare fuori dall'acqua Ma però non va molto sotto E trema il joystick Non è un gioco incentrato sull'open mode Raventare il tempo Però secondo me Un aiuto I completi livelli Quello c'è scritto? Non so Non so Non so No no Allora niente Neanche quello lì sposa Non usiamo l'aventatore No Ok Bravo E' un po' tardi E' un po' tardi E' un po' tardi Oh Pensavo si potesse andare Beh io tengo tirato Tu fai quello che vuoi Sì ma non così tirato Come facciamo? Eeeh Niente Devo sbalanzar No secondo me No secondo me era giusto Buttarti Come prima Ti lascio andare Se vedo che cadi ti prendo Sì ma anche io mi prendo Non è un problema Provo io Provo io cosa? Stai fermo Tieni su per favore Molto bene E adesso? E non capisco E' il secchio Bisogna andare dentro al secchio Sei morto? Dove scendere? Ah ok Visto in intelligenza sublime Ah una roba Boh Boh Siamo fuori Posso salvare fuori Finto il tutorial Oddio Ok Siamo dimagriti come mai Boh va bene In teoria possiamo salvare qua allora Sì vediamo come si fa Boh ha salvato già lui Sei sicuro? Sì sì Ok ragazzi Allora ci vediamo un'altra volta Siamo avanti presto eh Perché questo gioco qui lo vuole finire Buona domenica a tutti Lo finiamo prima dell'altro questo Perché l'altro è più impegnativo Allora Questo qui lo finiamo più facciammente L'altro mi dispiace perché è un pochettino Magari più noioso Domenica Ma è lunedì oggi? Oggi lunedì Ma sei Hai detto buona domenica? Eh vabbè Magari per l'ora domenica Ehm Sì magari l'altro è un pochettino più noioso però No non è noioso E' difficile E' difficile E' molto concentrato Qui sono tre tasti Qua è molto più dinamico Ma comunque non sanno di cosa stiamo parlando Perché mettiamo su prima questo video Ah beh lo vedrete E' una sorpresina Ecco esatto Ciao a tutti Scusate la Franca Poverina Ma smette Che io sono l'anima L'anima Sì L'anima Guarda L'anima Andrà messa in un istituto apposta Piantano Buon Buonanotte a tutti Eh buongiorno Buonanotte Ciao a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti